il disco volante caduto o meglio lasciato cadere a roswell nel 1947 negli stati uniti d'america da quel disco volante è venuta, grazie alla retroingegneria, cioè allo studio da parte degli scienziati su quel disco volante è venuta praticamente tutta la tecnologia che abbiamo fino ad oggi c'è stato un balzo tecnologico enorme, fibre ottiche, transistors, materiali superconduttivi tecnologia touch, touchscreen dei palmari, anche nel discorso della propulsione tecnologia antigravitazionali, fibre ottiche l'ho detto tutto quello che è stato il balzo tecnologico dei più o meno 50 anni a partire dall'evento di roswell fino ad oggi a partire dall'evento di roswell appunto per i 50 anni successivi cose che ci troviamo anche oggi per le mani tutto questo balzo tecnologico è dovuto alla retroingegneria fatta su un dischetto volante che probabilmente per loro era come la carretta dei buoi e l'hanno lasciato per vedere quello che ne avremmo fatto cosa ne abbiamo fatto? Ovviamente l'abbiamo messo in mano ai militari all'inizio queste cose il colonnello Filippo Corso di cui abbiamo parlato prima ha messo, lui era, ve l'ho detto, esponente dei servizi segreti in Italia durante l'epoca del fascismo lui ha messo in maniera chiara e tonda che un bel giorno il suo comandante, il suo capo, lo ha chiamato e gli ha detto guarda, da oggi in poi questo è il tuo ufficio in quell'armadietto, portatemelo, si ha fatto portare l'armadietto l'ho aperto e ha messo sul tavolo quello che c'era nell'armadietto erano tutti materiali presi all'interno dell'astronave di Roswell e li ha fatti rimettere nell'armadietto ecco, tutto il materiale che hai in quell'armadietto tu, caro colonnello Filippo Corso da questo momento hai il compito di andare nelle grandi industrie del nostro paese, Stati Uniti d'America nelle più grandi industrie di proporre questi materiali per fare in modo che gli scienziati di quelle grandi industrie ci studino sopra e ci inventino qualcosa è così che sono nate, come ho detto prima fibre ottiche, transistor, eccetera anche i laser il laser, la tecnologia laser è nata da queste cose qua come ho detto anche la tecnologia touchscreen perché loro hanno visto che la plancia di comando dell'astronave era una lastra con due incavi dove poter mettere le mani fine, fine della plancia di comando hanno visto anche un'altra cosa sempre il colonnello Filippo Corso lo disse in più occasioni disse noi abbiamo capito che il pilota dell'astronave entra in collegamento psichico con l'astronave vi faccio un esempio che lui ed altri hanno raccontato quando avevano per le mani uno di questi dischi volanti che negli anni 40 e 50 e anche 30 gli extraterrestri lasciavano cadere per dimostrare che loro sono una realtà concreta fisica ecco quando avevano gli scienziati per le mani uno di questi oggetti che cosa hanno fatto? non riuscivano ad aprirlo in nessun modo lame diamantate fuoco di tutti i tipi non riuscivano ad aprire questo disco volante un bel giorno uno degli scienziati l'ha guardato e ha detto entro ed è entrato il disco si è aperto quindi significa come diceva il colonnello Filippo Corso che il disco interagisce la macchina interagisce con la nostra psiche questa è una tecnologia che per noi è ancora pura fantascienza e loro invece ci sono arrivati quindi governare un disco volante significa probabilmente governare se stessi a Grazie a tutti.